Ciao e benvenuto in Camperis! In questo video vediamo un motorhome usato per 4 persone, il pilote Galaxy G700C. Il pilote Galaxy G700C è alto 2,85 m, largo 2,20 m e lungo 6,99 m. Questo modello ha 15.500 km ed è stato immatricolato ad agosto del 2016. Vediamo le principali caratteristiche di questo veicolo. Ampia di netti in grado di ospitare fino a 5 persone, blocco cucina con frigo da 138 litri, bagno e doccia situati in due vani separati, un letto nautico in coda, un letto basculante matrimoniale nella zona giorno e tanto spazio per lo stivaggio, sia nell'abitacolo che nel baule posteriore. Prima di continuare con una descrizione più dettagliata, non dimenticate di seguirci sui nostri profili social per rimanere aggiornato con tutte le ultime novità del mondo Camperis. Il Galaxy G700C rappresenta uno dei best seller della casa francese pilote, un motorhome da meno di 7 m pensato per coniugare agilità esterna e ampi spazi interni, senza rinunciare al garage, ad un letto nautico e al doppio pavimento di servizio, che garantisce un migliore isolamento e ospite i serbatoi delle acque in posizione antigelo. Questo modello in particolare è nella versione Essential. La cabina di guida è perfettamente integrata nella zona abitativa e garantisce così un piacevole effetto salotto. In particolare puoi trovare una dinetta accogliente luminosa con i due sedili anteriori girevoli, un ampio tavolo rotabile e una panca contrapposta, che consentono di riunire fino a 5 persone. Per lo stivaggio puoi trovare in dinetta alcuni pensili ed inoltre una botola. Nella zona giorno è presente anche un letto basculante matrimoniale che offre un eccellente comfort di riposo. Questo letto scende sulla cabina lasciando libera l'uscita e consentendoti di utilizzare la dinetta anche con il letto abbassato. Classico nella sua posizione tra dinetta e doccia, il blocco cucina presenta un piano lineare piuttosto ampio e spazioso, con un fornello di forma rettangolare a due fuochi e un lavello di forma simile con vaschi in acciaio spazzolato. La cucina presenta poi un comodo ripiano allungabile, cassetti, pensili ed armadietti per lo stivaggio. Il frigo slim è sulla parete opposta con cubatura da 138 litri e prevede un freezer interno. La porta del bagno consente di dividere la zona giorno dalla zona notte assicurando grande privacy. Disposti uno di fronte all'altro, il bagno riservato al bc e al lavabo e quello del box doccia sono situati nella zona centrale. Il bagno riprende lo stile del resto dell'abitacolo e offre vari vani per lo stivaggio, bc girevole, un lavello voidale ed un obloco. Il box doccia è ben dimensionato e curato nei dettagli, con porte pieghevoli in metacrilato, tasche porta oggetti ed un obloco. Nella parte posteriore puoi trovare un ampio letto nautico per due persone. La presenza di questo letto è senza dubbio un punto a favore per questo camper. Sono poi presenti vari vani per lo stivaggio, in particolare puoi trovare pensili sopra il letto, due armadi sui lati e ulteriori vani nella base del letto. Ulteriore spazio per lo stivaggio è offerto dal garage posteriore, accessibile tramite due ampi sportelloni che ti consentono di caricare anche attrezzature più ingombranti con molta facilità. Il veicolo è coibentato internamente anche per l'utilizzo invernale e il riscaldamento è affidato alla stufatruma Combi 4, che consente di utilizzare il veicolo anche ai climi più freddi. La scocca, costruita con la tecnologia Isotec, è realizzata con una robusta struttura in alluminio con profili AL, che fanno d'architettura di base, dove vengono montate le pareti in poliestere e il tetto in vetroresino antigrandine. La coibentazione è in stirofoam. Gli esterni offrono una linea semplice pulita, con qualche grafica che ravviva le fiancate e con il logo pilote presente su tutti i lati. Moderni, curati e ben rifiniti, gli interni presentano forme morbide e combinazioni di toni e colori caldi e rilassanti, evidenziando la grande esperienza francese nella cura degli interni, con tante luci a LED che sottolineano le forme degli arredi. Per visionare la scheda completa di questo veicolo e per conoscerne tutte le caratteristiche tecniche, clicca sul link che trovi nel post di Facebook oppure nell'info box di questo video su YouTube. Se desideri sapere quali sono gli altri modali disponibili sui nostri piazzali, visita il sito www.camperis.it oppure per vedere, toccare e provare in prima persona i nostri veicoli, vieni nelle nostre sedi Camperis dove sarai assistito da specialisti, sempre pronti a consigliarti la soluzione più adatta a te. Ti aspettiamo!